oh vuoi andare lì nella zona nuova? oh si! vai! me l'ho già dimenticata hehehehe boy! ho la memoria molto breve, molto. e allora zitta e nuota! sono infatti dico sempre di essere peggio di Dory ma che figata è questo posto! lo sto amando! che figata è questa torre! no 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 allora oggi non ho giocato ancora a Genshin e già mi piace! oh è questo? aia! aia! che male però fu cazzo! stronzo! godo! questo è un merda bastardo prima che mi viene a prendere qualcuno me ne devo un attimo andare per si si fai fai medicittarmi giusto perché praticamente c'è questo che mi ha tirato tre colpi di vampa sono rimasta 19 di vita tipo no forse ne avevo un po' di più dai avevo un po' di più mi è venuta a pushare e c'è morto lui godo! ah! ma questo solo perché avevo il pompo a spalla verde oh! quello devi fare si è stata bravissima non riuscirò mai ad entrare qua dentro vero o no? quindi devo scoglierlo e tu come stai messo invece? una cacca mi piace già a me è un po' meno ma io sto lutando semplicemente e c'è uno che si sta avvicinando a me stanno arrestando? ah no è un bot porca troia vieni da papà oh si nocce di cocco tu stai messa bene? non ho silvini se vieni da me c'è una tu dove sei che neanche ti vedo? sono in un posto dove potrebbero venire dai davvero si è baggato nella cesta che palle dove c'è una persona qui che teoricamente io sarei andata a pusharla poi c'è una cosa che si è più perfetto ma dove è sto qua che è tre ore che spara? eh! ui ui! chi è? stanno arrestando la crit non più oh sti bot mi hanno cagato il cazzo oh sti bot si infatti ma sti bot mi ha rotto un po' il cazzo a me è un boss ecco per questo ma è inferno sei viva tutto bene? sì ho fatto il boss ah è rimasto fermo impalato l'ho ucciso che fai te le privi? no no anzi no ops se vuoi però ti lascio questo perché a me non piace che cos'è? io in realtà armi sto a posto se trovo un vampire è meglio ah ma sto coso ti fa andare in alto sì non lo sapevo scoperto adesso ma scusami tutti sti bot che dicevi tu li hanno fatti o ce n'è solo uno? no e dovrebbe anche esserci la tizia della trivella sei quella che si triplica? ma su stocca o qua dentro in generale? è qua in giro ah ok ciao Cri ciao e tu sei a posto? sì allora questo Cri è pieno di bidoni questi niente io non ho appena fatto le miele tieni no non ti ha preso grazie non lo so Cri ne abbiamo una così che fai eh sì sì hai fatto bene io me ne andrei di qua però cioè l'hai visto il posto? ti è piaciuta? io però andrei via prima prima di essere oddio Seba eh ma se no ci luttiamo tutto quanto in realtà siamo messi messi molto molto bene comunque cioè io perlomeno ho un vampire blu di munizioni sto messa relativamente bene perché tieni ce lo anche per te se lo vuoi uuuu arrivo ahahah munizioni ne ho 250 quindi sono a metà di quante ne potrei no si no quante ne posso avere? 220? lo sfruzzino? oh non l'ho visto manca una cassa che non la trovo dov'è? eh sopra penso eh sopra penso eh da sopra è da sopra dritto e nuota e nuota nuota e nuota si si spacchiamo tutto questo posto non deve giù esistere oh sparano si? si non ho sentito niente mmm vabbè 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 questa è già già no questa ok è pieno è un pullman oh merda vai via vai via ok stanno andando via ottimo mi si è buggato tutto come? non lo vedo sento che fa bordello ma non lo vedo no mi si è buggato adesso quando corro mi mette la cosa perchè? non è che hai cambiato tasto per caso no mi mette la build questi che sparavano però eccolo la fraccato l'ho ucciso l'ho ucciso ottimo l'amico in casa è bianco? c'è c'è uh dietro si a terra uno l'altro dov'è? qua a terra ma quanti cazzo sono? eh uno è andato avanti non era quello allora tu intanto muori e l'altro era andato di qua ah ma si è prosciugato il fiume oh cazzo è vero ah è la è la è la anche dietro dietro kree craccato morto ok ecco wow 27 bianco bravo e non vedo quello che ti sta sparando però riesci a venire verso di me? eh eh si arrivo arrivo qui fortunatamente è una mira di merda no si è solo fatto casino che ovviamente ho tirato sull'arma per sbaglio invece di ricaricarlo si 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 sta arrivando però sta arrivando dove stai testa di cazzo eccoti lì vieni qua pezzo di merda dovrebbe essere l'ultimo è della combricola eccolo la sul tetto no sono due qua eh c'è altra gente ne ho acceso uno senti che voli? si è qua dentro è qua dentro casa il tizio nel sottotetto probabilmente credo mmm mi sa che è scappato no eccolo eccolo senti i passi lo vedo a posto tritato, demolito, nientato, annichilito oh yeah anzi prima prendono un veicolo Cree dobbiamo levarci dalle balle perché è ripartita la safe si vedi se hanno qualcosa che ti interessa anche qui si no niente la babata ha tutto gas No, no, Kree, dati una calmata, c'hai 6 kill Sono on fire Tirati un attimo questa No Oh cazzo, non facciamo minchiate che poi ci baghiamo Stavo già per incacciarmi, non mi faceva caricare l'arma Allora, io non ho una mitraglietta, però ho il compaspato Hanno rifiutato Oh, gente Ma guardalo lì Va bene No, non ti manco a giù Menomale la safe si è fermata, se non sai aprire il suo danno dalla safe L'hanno buildato La Però, chissà quando Prendiamo la taglia Dov'è che stava? Eh, vengo giù con la macchina, però Va bene Io si riesco a fare una roba veloce, veloce Senza se non si vado da nessuno, magari C'è gente? Eh, gente, no, ok Non li vedo, però Vieni? Sento che sparano, ma non li vedo Eh, sono qua vicini, eh, comunque Vieni, vieni Li vedo, li vedo, sali, sali Balla, balla, coglione 27 bianco A terra Craccato Perfetto C'era quello che stava facendo il ballecchio Cri, cri Arriva un pullman Via, via, vieni, 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 vieni È proprio dietro di noi Sì, mi sono nascosto io Sono nascosto fermo e non mi vedranno Io devo fare il giro della roccia Oddio, ma sai che converrebbe prendere l'altro pullman E ingaggiarli Te la senti? Col pullman? Sì Iniziamo a sparargli noi Oh, cazzo, si sono fermati, Cri Ti prego, dimmi che non mi hai visto Ha abbandonato il pullman 27 Andiamo in safe, andiamo in safe Sì Mi ha visto Io solo da qui possiamo provare a sparargli Siamo in safe Possiamo prendere il pullman? No No 42 Buono Non lo vedo 45 Vabbè, senti, pushiamole da solo Bravissima Sono senza vita Eh, ok Avevano una mitraglietta dorata, se la vuoi Sì, ho visto, ma è quella del boss che non mi piace Cri, sta partendo la safe? Ah, sì, non riesco a prendere l'arma E questo fa male, eh, Cri Ok Sì, mi sentivo handicappata Stavo cercando prima di prendere Passato da destra Fatti anche le bacchette Le bacche, le bacche, le bacche, le bacche Fatti Anche queste Non ti dimenticare il vampire Perfetto, bravissimo Eh, siamo 2v2 Che brutto posto Eh, attenzione, come faccio? Siamo 2v2, Cri Potrebbe essere un'idea Aspetta un attimo Vabbè, tanto se prendiamo la taglia Sto andando a prendere la taglia, eh, Cri Sì, attento Ok Sono fuori safe? No, 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 no Sono da questa parte qua, però E quindi io salgo su questo tetto Eccoli Sono qua a sinistra, a destra Quarto Ok L'altro qua sotto Boom Voilà Madonna Cri Che cazzo di partita hai fatto? Dammi un abbraccio No 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 Ci sono rimanza malissimo Eh, non importa Madonna Cri Hai fatto 9 kill Hai visto? Ho visto Fortissimo Ma Fortissimo Fortissimo Fortissimo